Continuo a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, ritorno qui in via Diego Peluso, in modo particolare nel tratto compreso tra via Mazzini e via Oberdan e mi rivolgo a Chima Ambiente Amiu. Per cortesia cercate di intervenire in maniera sistematica, la pulizia in questa zona deve essere sistematica. Tempo addietro ho sottolineato il fatto che da circa un mese non veniva svolta la pulizia delle strade, in modo particolare i tratti, il pezzo compreso tra il cordolo del marciapiede e il manto stradale. Una quindicina di giorni fa circa fu fatta una pulizia, però il problema si ripropone e se non si interviene ovviamente quei rifiuti che ci sono si stratificano, si accumulano e quindi ritorniamo nella situazione di partenza. Occorre cioè la sistematicità, la programmazione, l'intervento programmato appunto di pulizia. Certamente, va detto un fatto, c'è l'assoluta inciviltà di chi butta rifiuti e quant'altro. Su questo non ci piove, è da condannare e da perseguire l'inciviltà di queste persone. Però bisogna anche dire che non è che per la inciviltà di pochi poi alla fine devono rimetterci tutti e quindi non si va a pulire. Allora, Presidente Mancarelli, mi rivolgo a lei, mi rivolgo all'assessore alle società partecipate Michele Mazzariello. Cerchiamo di programmare, di fare degli interventi sistematici, programmati in questa strada come in altre. Noi non pretendiamo, i cittadini non pretendano che, non vogliamo la luna nel pozzo, non dico ogni giorno ma in maniera molto ma molto frequente, bisogna programmare. È tutto, secondo me, un discorso di programmazione perché se manca la programmazione, la sistematicità nell'intervento, il problema, ripeto, non solo non si risolve ma addirittura peggiora perché, come detto poc'anzi, i rifiuti si accumulano, rifiuti su rifiuti. Io, come vedete, sono un consigliere libero, sono libero, raccolgo le segnalazioni, intendo avere la risoluzione del problema e sarò ben lieto di dire che il problema è stato risolto. Il cittadino penso che abbia votato i consiglieri per risolvere i problemi, altrimenti diventerebbe soltanto uno sfogatoio, una raccolta di lacrime. Badiamo ai risultati. Ci sono tre anni ancora di amministrazione, se si arriverà a scadenza naturale e quindi, per cortesia, diamo risposte. La gente vuole risposte, la gente paga le tasse e pretende i servizi. E allora il mio appello al Presidente Mancarelli e all'assessore alle società partecipate Michele Mazzariello.